In questa poesia sono contento di parlare di colui che per Lukaku è il partner ideale, colui che mi ricordo da chi è stato scoperto, dal nostro carissimo Diego Alberto, che ha consigliato il suo nome alla dirigenza sapendo già che poteva essere un fenomeno in potenza. Parlo di un giocatore a me molto caro, penso abbiate capito, risponde al nome di Lautaro, arrivato nel 2018 dal Racing di Avecianeda e a cui vogliamo più bene di quanto lui creda. Il primo anno Spalletti lo relegò in panchina, ne doveva fare di strada, partiva un po' in sordina, vice di quello che avevamo là davanti, come si chiamava? Ah sì, Mauro Icardi. Poi con Conte la consacrazione, il bello di vederlo ad ogni azione, intendersi con Big Rom tra gole d'aiuti, come se quei due si fossero sempre conosciuti. Non si può quantificare quanto io sia contento di avere così tanti giovani di talento, lui come Akimi, Barella, Bastoni, a farmi credere che l'Inter del futuro avrà qualità e coglioni. E quindi grazie Toro per farmi sognare e per essere un attaccante capace di segnare e di dare spettacolo insieme al suo compagno. Per l'Inter sei stato davvero un grande guadagno.